La telenovela sullo stadio Benelli e sui suoi lavori a top che fanno storcere il naso ai tifosi della Vispesero si è rinnovata di un nuovo capitolo in consiglio comunale. Consiglio che ha bocciato la mozione del consigliere Daniele Malandrino di prevedere un piano di stanziamenti canalizzato all'amodernamento dello stadio. Un contesto in cui l'assessore Pozzi ha ammesso però l'esistenza di una nuova ricerca di fondi per andare oltre allo step del rifacimento del campo, che è un progetto da 900.000 euro che diventerà cantiere all'indomani della fine del campionato. Un progetto, lo stadio di fattibilità, un progetto preliminare che è stato approvato in giunta poche settimane fa e che porta oggi già a un progetto definitivo, a tutti gli effetti, un progetto definitivo che andremo a condividere questa settimana con la società perché ci sono alcune richieste, alcuni suggerimenti che venivano dalla società in termini di un leggero avvicinamento del campo, insomma piccoli accorgimenti sulle particolarità, sugli aspetti tecnici del sintetico di ultima generazione, ci sono alcuni passaggi che andremo a condividere con la società, abbiamo già un definitivo, siamo pronti poi una volta condiviso questo step ad avviare il procedimento di manifestazione di interesse, quindi per andare ad assegnare, ad aggiudicare i lavori entro la fine del campionato, in modo tale da partire poi un minuto dopo che si conclude la stagione regolare con i lavori sul campo da calcio. Rifare il campo però vuole essere un punto di partenza per poi procedere ad ulteriori step, in primis la rimandata copertura della Prato, ma non solo, sulla quale si stanno cercando nuovi finanziamenti. La copertura in realtà in questo momento si stanno cercando finanziamenti perché non è possibile arrivare, lei dice manca un progetto, io penso che un progetto ci sia più di un progetto, nel senso che le alternative di fronte a questa situazione sono due, o si parla di grandi opere senza però avere una contezza con quella che è la situazione reale, oppure si interviene su uno stadio, lo si fa concretamente come è stato fatto e come lo abbiamo intenzione di fare nelle prossime settimane, con una serie di progettualità, di stralci funzionali a un intervento complessivo che ha una sua visione. Perché parallelamente al progetto preliminare che abbiamo approvato, il definitivo che va nella direzione che ho detto, c'è un ulteriore progetto che non è passato in giunta perché in questo momento non abbiamo un finanziamento, realizzato dal servizio che fa capo all'architetto Severini, quindi al servizio di nuove opere, c'è già anche un intervento che prevede il lavoro di strutturazione di tutto quello che è la tribuna. La tribuna che quindi come lei già un po' anticipava, prevederà, perché l'ha stato detto, un abbassamento della tribuna, un allungamento e una copertura. Non si tratta di buttare via i soldi, ma si tratta di andare a realizzare poi la copertura e assolutamente sarà funzionale che cosa? Prevedere lo smantellamento e poi andare a realizzare la copertura e poi andare a realizzare la tribuna. Malandrino ha esternato curiosità nel capire se questo nuovo progetto andrà in direzione di una visione complessiva invocata da più parti. Perché non si prova a ripensare l'intera area? Nel momento in cui è possibile anche costruire degli stadi a step successivi, cioè partendo magari dalle cose essenziali, ma avendo ben preciso dove si vuole arrivare, perché non si prova a recuperare tutta l'area? Perché non si prova a fare di quest'area un'area che sia fiore all'occhiello della città?